Cose da farsi veramente, ma questo cosa vuole fare? Dico perché non si sta zitto, che fa si mette a protestare? Ma come vive aggiatamente, viene una macchina, va al mare e vuole fare l'impegnante e si permette di ballare? Ma che si faccia i battesuori, che sta contenti di campare? Ma di che si va a impicciare, questo si vuole rovinare? Sono cose delicate, non devono essere boccate. Ma che si faccia i caroselli, che cambiano la televisione e non si vada ad immischiare con la contestazione? Ma questo come si permette di toccare le cose serie? Non ci ha fatto pensare a bambino, di puntuale, di purattino. Ma che si faccia i battesuori, che sta contenti di campare? Ma di che si va a impicciare, questo si vuole rovinare? Sono cose delicate, non devono essere boccate. Nessuno dice che è vietato, se vuole scrivere canzoni, ma che le scriva con prudenza e senza rompere i coglioni. E se ricordi che fa bene la libertà delle opinioni, però non deve esagerare, ma che ci ha detto per megnione, eh? Ma che si faccia i battesuori, che sta contenti di campare? Ma di che si va a impicciare, questo si vuole rovinare? Sono cose delicate, non devono essere boccate. In che sedi metà a cantare quella, come la fattorica? Che faccia pure, lo ascoltiamo, canta, pazienza, così sia. Ma questo legge, questo pensa, si aspeggia a fare comunista. Che fa, si metta a parodiare l'intellettuale di sinistra, eh? Ma che si faccia i battesuori, che sta contenti di campare? Ma di che si va a impicciare, questo si vuole rovinare? Sono cose delicate, non devono essere boccate. Ma che si va a impicciare, questo si va a impicciare,